Ciao ragazzi e benvenuto in questo nuovo video e in questo video vi voglio aggiornare un po' sulle novità da tanto che non filmavo un video chiacchiericcio con voi ma davvero non vedevo l'ora di informarvi sulle novità della mia vita perché tante cose cambieranno, veramente cambierà tutto e non vedo l'ora di raccontarvi, di mostrarvi tutte le novità perché sto facendo tantissime cose, sono super mega impegnata però non solo a livello lavorativo ma anche a livello personale infatti tante cose nella mia vita cambieranno e lo scoprirete voi stesse perché vedrete che ci saranno dei cambiamenti veramente grandissimi a partire dalla casa, a partire dalla mia vita personale voglio fare tante cose, finalmente ho preso la decisione e la scelta di affrontare delle cose che mi spaventavano e anche dal punto di vista lavorativo vi farò vedere perché sto creando nuovi progetti e sto creando delle cose, sia sto lavorando a Carita Shop quindi per ampliare ancora di più il mio shop online sto perfezionando tante cose, ho lavorato tantissimo anche per la grafica ad esempio ho fatto una scatola nuova ho perfezionato il confezionamento, ho perfezionato tante cose e in più a tutto questo ragazze sto creando nuove cose non posso dirvi di più ma davvero voi mi chiedete in tantissimo perché in tante l'avete capito sto ampliando anche la mia linea di gioielli a proposito di gioielli abbiamo rifornito proprio pochi giorni fa questi qua gli orecchini cerchi cuore con la collana a cuore quindi adesso sono disponibili anche la collana 5 stelle, sono un po' tutti disponibili quindi andate a vedere, sto facendo nuove cose anche perché mancava una cosa io vorrei fare mille cose ma veramente non c'è il tempo bisogna anche un po' fare delle scelte però una cosa mi mancava se mi seguite da tanto tempo sapete a cosa mi riferisco però io non vi dico nulla tengo le dite incrociate e spero tra pochissimo di potervi dare una bellissima notizia perché veramente si coronerà un altro mio piccolo grande sogno novità anche per quanto riguarda i prodotti Carlita Shop perché ho inserito nuovi prodotti quindi ve li volevo mostrare proprio per questo mi sono messa con la videocamera vicino appunto per farvi vedere ad esempio una novità sono le matite sopracciglia infatti proprio adesso l'ho utilizzata le nuove matite sopracciglia abbiamo inserito di Alchemilla su Carlita Shop già vanno fortissimo anche perché costano poco e sono completamente bio e naturali la cosa bella è che hanno da un lato vedete il pennellino per pettinare e poi sotto hanno anche la matita e sono buonissime sono bio naturali sono molto buone io ho usato quella marrone c'è anche biondo cenere c'è anche la matita proprio per contornare l'occhio che sono molto scriventi anche quella per le labbra comunque venite a vedere su Caritas Shop sono tante le novità un'altra novità stupenda ed è un regalo che veramente vi ho fatto con tutto il cuore è stata una settimana che abbiamo fatto e che è ancora in corso quindi se volete approfittare una settimana di sconti al 25% della marca Nakomi quindi approfittate perché so che in tante come me amate questi prodotti in questo modo potete fare scorta fare super rifornimenti già tante cose stanno finendo quindi approfittate perché il 25% di sconto è veramente tantissimo abbiamo pensato di fare questa settimana da lunedì a domenica appunto di sconto sicuramente se mi chiedete quali sono i miei best seller di Nakomi vabbè un po' tutti ma in particolare ad esempio questo scrub per le mani al lampone è buonissimo ve lo faccio vedere è troppo troppo buono ed ha una profumazione al lampone buonissima quando lo tocco è troppo buono vabbè io adoro tutti gli scrub Nakomi in particolare questo amo la profumazione è uno scrub per le mani che quindi io utilizzo sulle unghie sulle mani mi fa le mani morbidissime e mi elimina anche le cuticole quindi ve lo straconsiglio soprattutto prima della manicure in questo modo io veramente ho pochissime cuticole è molto molto buono e poi questo qua che è lo spray sbrillucicoso sbrillucicoso che è molto bello che lo uso sempre sulle gambe sulle braccia mi piace tantissimo questo mi amassevamo a un po' tutti comunque vi metto le box info il link alla categoria scontata appunto tutti i prodotti Nakomi almeno 25% la novità che abbiamo inserito è questo qua lo scrub and wash al mango di Alchemy in abbinata al burrocorpo il burrocorpo era finito e l'abbiamo rifornito quindi adesso è disponibile lo potete acquistare vedete assieme ha un profumo di mango buonissimo assieme a questo qua che è lo scrub and wash sto adorando è veramente buonissimo è già la mia seconda confezione profuma di mango guardate com'è bello in pratica serve proprio in questo periodo per eliminare magari residui dalla pelle dell'abbronzatura che è andata via o comunque per levigare la pelle eliminare i peli incarniti le imperfezioni è molto molto vi lascia la pelle morbidissima e poi dopo vi applicate il burrocorpo della stessa linea alchemy ragazzi sono buonissimi c'è un'altra novità che ho inserito su carità shop è questo qua che me l'avete chiesto in tantissime io già avevo la crema gambe light che è buonissima questa la uso ogni sera è super drenante sgonfiante anticellulite con rusco centella vite rossa è buonissima e abbino sempre questo qua il succo gambe light ne prendo un misurino ogni mattina è ottimo proprio per drenare anche lui contiene rusco centella uve rossa proprio per favorire la funzionalità del drenaggio quindi eliminare liquidi in eccesso è anche buonissimo di sapore infatti l'ho fatto bere anche a Dario e io ho la prova del 9 con lui perché lui comunque essendo un maschio tante cose se non hanno un gusto buono ha subito anche schifo invece questo gli è piaciuto un sacco è tipo un succo di frutta il sapore è molto buono quindi vi consiglio se avete problemi di cellulite gambe gonfie anche di tensione veramente questa coppiata è top e sono già diventati due best seller Caritas Shop grazie a altri prodotti nuovi e questi so che vi faranno impazzire sono questi scrub viso tutti profumati e colorati bellissimi di Nakomi sono delle novità stupende questi in offerta lancio sono scontati su Caritas Shop sono buonissime poi magari se mi seguite su Instagram vi farò vedere qualche story dell'utilizzo così potete vederli ma sono troppo buoni allora questo qua è pinacolada ed è verde azzurro marina poi c'è questo qua che è al melone rosso anguria è troppo buono e questo al cioccolato adoro ho conservato le scatole appunto per far vedere che anche la confezione è carinissima anche comedia regalo e anche autoregalo però vi voglio far vedere dentro perché io l'ho utilizzato e sono troppo buoni madonna ragazzi guardate questo al cioccolato a parte che hanno delle consistenze bellissime e dei profumi cioè questo vi giuro è da mangiare odora proprio tipo di cioccolato è buonissimo questo qua è troppo buono ragazzi madonna questo è proprio anguria melone un misto fra l'anguria e il melone arancione è buono buono ragazzi poi la cosa bella è che quando lo passi sul viso non è aggressivo quindi semplicemente esfolia leggermente il viso vi lascia la pelle morbida luminosa ed elimina anche le imperfezioni e le impurità dal viso quindi io vi consiglio di farlo due o tre volte a settimana è stupendo proprio da fare piacevolissimo la novità che ho inserito sempre di Nakomi su Caritas Shop anche lui scontato in offerta lancio è questo qua questo è un siro al collagene ragazze ve lo straconsiglio noi abbiamo già quello all'acido ialuronico e quello all'aloe se vi ricordate adesso ho inserito anche questo al collagene perché dopo averlo provato me ne sono innamorata c'è un siro leggerissimo vi faccio vedere ha una consistenza veramente piacevolissima super leggero fresco ha un profumo di tipo frutta un misto fra albicocca e mango pesca pesca comunque buonissimo leggerissimo lo uso sul viso prima della crema il siro è un ottimo prodotto da usare sul viso perché elimina le imperfezioni le rughette illumina tantissimo il viso in più è leggerissimo quindi rimpolpa il viso lo idrata senza ungere perché praticamente ho il free quindi anche chi ha la pelle mista impura è straconsigliato e dalla quando lo sto usando veramente ho il viso molto più luminoso più pulito più rimpolpato e bello io ve lo straconsiglio è buonissimo sia per la profumazione per gli effetti comunque è buono buono ovviamente ragazze vi metto tutti i link nel box info sotto quindi consultate il box informazioni la novità che ho inserito sono i prodotti al tulipano e papavero di apiarium sono buonissime hanno delle profumazioni molto molto belle io amo tutte queste linee profumate di apiarium lo sapete ne abbiamo tante vaniglia ambre gersomino paciulli mandarino basilico questa tulipano e papavero è nuova ed è molto bella è veramente molto sensuale molto fresca in più ha potere tonificante setificante infatti anche qua c'è scritto che è proprio tonificante poi estratti di calendula carité quindi ottima anche dopo la depilazione ad esempio questa crema corpo le creme corpo sono molto fresche a rapido assorbimento lo scrub ai sali del marmorto anche ha una funzione rassodante anticellulite sono buonissimi a completare la linea c'è il bagno doccia c'è la crema mani e il deodorante tulipano e papavero io amo questi deodoranti tra l'altro in questo nuovo pack li trovo troppo fighi eleganti anche molto molto pratici da portarsi dietro perché io spesso me lo porto in palestra eccetera adesso mi metto la crema mani vi faccio vedere ragazzi hanno tutte le confezioni vedete rosa fuc si adoro sono tutte fresche belle rinfrescanti non ungono queste creme guardate già si è assorbita e la profumazione è molto molto bella vi consiglio di provare tutta la linea tulipano e papavero questa nuova è veramente una bellissima profumazione queste erano le novità Carlita Shop ovviamente venite a vedere su Carlita Shop fate un bellissimo ordine adesso che ci sono gli sconti tanti di questi prodotti sono scontati e ci sono tutti i prodotti Nakomi tutti almeno 25% solo fino a domenica quindi approfittate e avrete la nuova scatola la nuova decorazione quindi avrete proprio un bel pacco fatemi sapere se vi piacciono tutte le modifiche questa è un'altra novità vedete ragazzi sono tutte le nuove cartoline che ho fatto che praticamente devo adesso firmare le voglio anche firmare questa è la mia grafia la mia scritta che abbiamo digitalizzato e adesso le voglio anche firmare e scrivere delle dediche personalizzate mi piace troppo questa cosa io fin da quando ero bambina amavo colorare avere il diario scrivere le frasi i cuoricini quindi mi piace tantissimo farlo ogni sera mi metto ne prendo un po' e faccio questa cosa quindi per farvi arrivare proprio una dedica anche nel pacco con la nuova cartolina mi piace sono tutte cose che faccio perché amo il mio lavoro amo voi e quindi questo è il mio sogno quindi ogni giorno che posso lavorare al mio sogno per me è bellissimo perché lavoro una cosa che mi piace e che mi tiene viva e mi dà tanta soddisfazione voi mi date tanta soddisfazione quindi vi voglio ringraziare veramente per tutto il vostro affetto tutto il vostro seguito i vostri ordini che fate numerosissimi anche le richieste i vostri feedback quando mi dite che vi trovate bene con i prodotti i consigli che mi date voi per migliorarmi quindi veramente ci tenevo a ringraziarvi poi vi volevo dire un'altra cosa a proposito delle novità un po' perché questo video è un po' chiacchiericcio aggiornamento vi volevo aggiornare anche riguardo all'endometriosi e alla mia malattia che vi ho fatto anche alcuni video vi ho spiegato questo problema che io ho avuto è una questione molto delicata e poiché diciamo devo iniziare comunque un percorso di cura anche perché comunque se voglio avere un figlio devo comunque fare le cose per bene e quindi a breve a fra giorni avrò la visita dal mio ginecologo quindi assolutamente vi farò sapere perché fatemi sapere se vi interessa però già so che vi interessa perché intanto me lo chiedete aggiornaci quindi vi aggiornerò sulla mia condizione e su tutte le cure che farò e in più a breve avrò varie visite di controllo anche per quanto riguarda il naso quindi vi farò aggiornamenti anche per l'intervento al naso e vi terrò le giornate anche su tutte queste cose vi ho detto succederanno tante cose quindi continuate a seguirmi e mi raccomando seguitemi anche su instagram dove là sono molto attiva con le story con i post seguitemi anche sul profilo del mio shop carità shop vi metto tutti i dati nel box info sotto dove facciamo spesso anche delle promozioni appunto vi comunico le promozioni gli sconti i nuovi prodotti le novità e dei giveaway e quindi tante cose belle grazie scusatemi se questo video è un po' frettoloso fatto così però davvero io sono super impegnata e purtroppo per fare video devo rubarmeli nei momenti che arrivo a casa che ho 5 minuti liberi adesso infatti devo andare in palestra un'altra novità è questa che mi sto allenando con un personal quindi anche su questo se vi interessa vi voglio fare un video aggiornato sulla mia dieta su i miei esercizi magari fatemi sapere se vi piacerebbe un video sui miei esercizi che sto facendo per allenarmi oppure un nuovo video vorrei fare un nuovo video sui esercizi un nuovo video cosa mangio perché me l'avevi chiesto in tante perché so che l'ultimo video vi è piaciuto tanto quello della spesa là mi avete richiesto in tantissime di fare altri video della spesa e di cosa mangio e vorrei farvi un po' di questi video anche fitness insomma fatemi sapere che video vorreste voi nei commenti vi mando un bacio grandissimo grazie per il vostro affetto e per il vostro sostegno e ci vediamo il martedì e il giovedì lo sapete faccio sempre un nuovo video alle ore 14 il prossimo video martedì sarà il video più richiesto da voi nei commenti ciao appena tornata a casa dalla palestra guardate qua chi c'è vicino a me la mia bimba la coppina vero? non vedo anche voi vengono coscire a ptush amore 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 comunque ragazze mi è arrivata finalmente la ring light amore il mio amore la sta montando sono felicissima comunque ho pensato di farvi vedere anche la cena di stasera poiché diciamo questo video è stato un incrocio fra un vlog un video novità aggiornamenti un po' di tutto in attesa del cosa mangio che mi avete detto che è un video che vi piace molto vi faccio vedere anche la nostra cena e come ho fatto nello scorso video nel frattempo mi ero dimenticata di farvi vedere appunto perché in tanti anche nell'ultimo video mi avete fatto i complimenti per i capelli per il colore per la luminosità allora vi voglio farvi vedere i prodotti che sto usando sto usando questo qua che è lo shampoo antigiallo che praticamente ha un colore viola cioè lo shampoo dentro ha un colore viola ed è proprio uno shampoo che toglie il giallognolo dai capelli e ravvive il tuo colore ed è bellissimo li rende luminosissimi cioè addirittura alcuni mi hanno detto hai cambiato il colore più bello ma io non ho fatto assolutamente tinta nulla semplicemente sto usando questo shampoo che è fantastico se avete i capelli trattati è veramente buonissimo e ho usato la maschera questa qua ho usato questa qua la maschera acida che è anche ottima perché è una maschera proprio per capelli spenti opachi trattati ed è buonissima perché li illumina un sacco poi come novità c'è anche la maschera vitaminica anche questa l'ho provata ed è buonissima proprio rivitalizzante nutriente ristrutturante per capelli e poi c'è il balsamo antigiallo che io uso sempre assieme allo shampoo ed è buono molto molto buono cioè io uso sempre shampoo e balsamo antigiallo e poi una volta a settimana appunto la maschera e poi c'è lo shampoo acido anche lo shampoo acido è consigliato se avete capelli secchi sfibrati opachi trattati è buonissimo perché questi prodotti ristrutturano i capelli e li illuminano un sacco quindi potete usare magari lo shampoo acido con la maschera acida provare tutte le varie accoppiate comunque questi prodotti sono una novità su carità shop e sono anche scontati ancora per pochi giorni quindi potete approfittare comunque adesso io vado a cucinare queste sono le nostre sere come si concludono con lei che sta vicino a me madonna mia io mi metterei su un divano a farti le coccole senza cucinare senza fare nulla con te che mi lecchi amore perché io ve le ho lavato le orecchie oh no no quanto c'è bella sì amore io ti amo tanto e mamma vuoi fare la papa e a pupi ci diamo i croccantini cosa lecchi l'aria no lei lecchi il rossetto e il burro a cacao perché mi mettono tutti questi burro a cacao profumati buoni e lei li mangia mmm ma non vuoi si bella amore si sta riscendo ti riscita Dario ti riscita amore puoi parlare noi vediamo noi vediamo siamo stanchi ragazzi perché abbiamo fatto un allenamento stiamo facendo molto intenso con questo pt che vi faremo conoscere vi faremo vedere lei ha detto ci rilascia va bene vi faccio vedere la scena ciao se per cena sto preparando una fantastica spigola di mare che mi sono fatta sfilettare dal pesci vendolo ed è buonissima soprattutto perché senza spine ho trovato il modo di far mangiare il pesce a Dario che come bimbi senza spine è molto grande pesava un chilo sfilettata poi diventava comunque la metà con dei gamberetti e qua invece vado a fare questo qua il riso basmati e un po' di verdura adesso vi faccio vedere come confongo il piatto ragazzi ho messo anche delle verdurine peperoni carote e prezzemolo adesso faccio cuocere un altro pochino qui va il riso basmati ragazzi ed ecco qui la nostra cenetta che ho preparato guardate che bello la nostra spigoletta di mare con gamberetti e riso in cui ho messo un po' di cipollina e un po' di carota sale e pepe guardate che bei piatti super sano adesso mettiamo un po' di olio a crudo accompagnato da insalatini con pomodorini rossi e gialli si amore hai ragione qua c'è il limone perché Dario ama mangiare il limone con il sale sopra e questo è proprio un limone bello limonoso vedete da mangiare yumi questa è la nostra celetta amore lei vuole le mie attenzioni vero amore adesso mamma ti prende ti coccola un po' e questa è la nostra cena buon appetito vieni amore è pronto eccola mettete tanti like al video tanti like al video di incoraggiamento per i prossimi video haul acquisti cosa mangio allenamento vi voglio fare un sacco di cose belle ci vediamo martedì ciao family ci vediamo ciao ciao Grazie a tutti.